Il Ministro oggi ha detto che è di sinistra, ero e sono di sinistra, cosa risponda a quei ragazzi e a quei bambini che stanno aspettando una legge sullo Iussolio? Io penso che sia una norma che va fatta, in questo momento bisogna costruire le condizioni per avere una maggioranza parlamentare che la voti, perché affermare che è giusto va benissimo, ma poi bisogna fare in modo che il Parlamento la voti, quindi avere scelto di andare a settembre secondo me è stata una scelta giusta, necessaria e io credo sicuramente utile a produrre le condizioni perché in quella sede ci maturano le condizioni per approvare una legge che ha appunto, credo, la ragione di essere approvata. Però il senso Orfini dice di non essere convinto che a settembre ci sia una svolta, anzi. Io penso che la scelta di arrivare a settembre sia stata una scelta giusta perché abbiamo bisogno di costruire quelle condizioni, il tempo mi auguro che ci aiuti in questo senso. Quindi a quei ragazzi aspettiamo settembre. L'agricoltura...